ehi ehi ciao grandissimi sono qui oggi perché come avete intuito vi vorrei parlare di nasa vi vorrei parlare di omega io vorrei parlare di quello che è l'orologio attualmente forse il più bello che esista di casa omega e parliamo ovviamente dello speed master snoopy un orologio stratosferico che andremo a vedere meglio dopo con immagini molto dettagliate utilizzando come sfondo le immagini di questo fantastico libro forse il libro più bello che voi possiate acquistare ovviamente non riferito all'apollo 13 del quale l'orologio vuole andare a celebrare il cinquantesimo anniversario o meglio non dell'apollo ma bel sì del premio che è stato conferito a omega da parte degli astronauti nasa parliamo del silver snoopy award questo è dovuto al fatto che lo speed master ha salvato la vita a tutti quelli che erano gli astronauti del volo apollo 13 calcolando i famosi 14 secondi dopo lo scoppio di uno dei due serbatoi per fortuna potevano contare decisamente su un cronografo di razza detto questo andremo a vederlo meglio nel dettaglio perché per me è un grandissimo piacere portarlo qui sul canale presenta alcune differenze abbastanza radicali rispetto al moon watch classico lo guardiamo appunto con le immagini di moon fire che non è come già detto prima riferito all'apollo 13 ma bensì all'apollo 11 ovviamente questo è il libro migliore che potete comprare secondo me sul sull'allunaggio questo perché comunque quando si parla di speed master non si parla solamente di modelli di missioni si parla di luna si parla di tutto quello che è stato lo spazio e di quella che è stata sicuramente l'impresa più rilevante che l'umanità abbia mai compiuto detto questo bando alle ciance e ciancio alle bande direi di andarci subito a gustare questo fantastico orologio ed eccoci qua grandissimi che parte logicamente l'avventura moon fire ed eccolo qui in tutto il suo splendore lo speed master snoopy c'è poco da dire nel senso che è un orologio che sa togliere il fiato guardate intanto che riflessi intanto vi comunico che differisce dal modello normale diciamo più storico perché questo ha un vetro zaffero oltre che un fondello diverso che poi andremo meglio ad ammirare e anche la ghiera ceramica quindi non più il lamierino d'alluminio ma è stato introdotto una ghiera in ceramica blu adesso però passiamo nel vederlo comunque indossato dove esprime tutta la sua naturale bellezza qui abbiamo cambiato come avete visto anche immagine siamo passati a vederlo il mio polso da 18 e mezzo 19 la vestibilità è esattamente identica perché l'orologio identico in quella che sono le forme della cassa rispetto allo speed master normale diciamo io ho voluto installare perché come sapete sono un grande amante dei bracciali appunto il bracciale in metallo come detto sempre un 42 mm lo spessore risulta leggermente maggiore perché c'è tutta quella che è l'animazione sul fondello comunque le proporzioni sono perfette la clasp è stata aggiornata la vedremo poi nel seguito ma questo anche sugli altri modelli come dicevo proporzioni perfette ma ora è meglio andare a vedere un pochino più nel dettaglio per capire meglio quali sono le differenze cambiata anche l'immagine sullo sfondo lo togliamo molto volentieri dal polso per farvelo apprezzare in quella che è tutta la sua bellezza e come vedete il fondello in questo caso ha un suo perché avviciniamoci un pochino meglio il quadrante in colorazione argente anche perché è in argento quindi il quadrante è stato fatto in argento diversa anche la profondità di quelli che sono i subcontatori cronografici presente ore 9 ovviamente l'immagine di snoopy con il cinquantesimo anniversario del premio ricevuto che è stato dato nel 1970 e la colorazione blu che è completamente unica inedita per solamente questo modello il vetro come già detto e zaffero hanno ridotto molto l'effetto milky ring della guarnizione che assolutamente risulta pulitissimo la bellezza e la magia però sono tutte nel nel quadrante questo colore che dopo andremo a vedere anche la luce del sole diretta sprigiona veramente dei riflessi per quello che anche soprattutto il blu della ghiera ceramica veramente notevoli adesso faccio partire tra poco il cronografo perché io so già tutti quanti voi cosa volete vedere della parte migliore di questo orologio quindi se davanti è bello figuriamoci di indietro è cambiata anche l'immagine ci sono già gli astronauti qua siamo ovviamente sulla luna e facciamo partire quella che è comunque la magia di questo incredibile orologio adesso parte lo spettacolo quello quello vero insomma passiamo al lato b come potete notare la terra è sempre in movimento parte a terrazzo con sopra snoopy che arriva in esattamente 14 secondi sulla terra questo per ricordare anche questi appunto famosi 14 secondi misurati dallo speed master che servivano per l'accensione e propulsori per ritornare appunto sulla terra dopo il guasto che ci fu a bordo dell'apollo 13 presente la scritta eyes on stars cos'altro dire il fondello è logicamente personalizzatissimo è diverso quindi leggermente più spesso rispetto alla versione dello speed master normali e riporta tutte quante le scritte quindi calibro 3861 il sistema di bloccaggio brevettato da omega tale per cui ovviamente il fondello deve sempre andare nella stessa posizione altrimenti non funziona più quella che è l'animazione e questo secondo me è un gran bel valore aggiunto rimango molto interessato sul fatto di come siano riusciti a tenere lo stesso meccanismo nonostante come avete notato adesso la terra ruoti di continuo e nonostante quando parte il cronografo ci sia comunque questa animazione la stessa precisione quindi il calibro è sempre certificato metas e mantengono appunto lo stesso calibro quindi credo che abbiano forse modificato qualcosa in termini di coppia perché essendoci più organi in movimento mi verrebbe da pensare che qualcosa potrebbe andarsi a perdere durante la marcia sarei curioso di avere magari delle notizie ufficiali qua ora guardiamo orologio quando come sfondo abbiamo la capsula che è atterrata ormai nelle acque dell'oceano diamo un ultimo sguardo questo fantastico segnatempo adesso vorrei concentrarmi un attimo sul bracciale perché come vedete dotato di micro regolazione questo è presente su tutti gli speed master dopo l'ultimo aggiornamento e purtroppo anche aumento di destino qui ho voluto scegliere anche la parte le parti centrali lucide del bracciale perché secondo me stavano meglio con quello che è la brillantezza dello zaffero e anche del quadrante quindi ho optato per questa scelta e non per il bracciale interamente satinato qui siamo arrivati ormai alla fine gli astronauti sono arrivati sulla terra si stanno giustamente prendendo i loro meriti e andiamolo a vedere l'ultima volta al polso con questi suoi riflessi fantastici con questo cielo un pochino nuvoloso per fortuna è uscito anche il sole quindi a brevissimo vi faccio vedere anche l'effetto sotto la luce diretta che credetemi cambia completamente l'orologio se qui lo vedete freddo lo vedete un pochino smorto adesso vi mostro con me sotto il sole ed è un'esplosione di colore un blu stratosferico guardate qui come cambia sembra completamente un altro orologio sono contento di aver fatto questa scelta di bracciale perché nonostante l'orologio venga fornito con un fantastico cinturino blu col bracciale a lucentezze totale e secondo me sia veramente quell'effetto gioiello che l'orologio merita ma adesso direi di tornare per quelle che sono le conclusioni su questo fantastico orologio ed eccoci tornati qui carissimi come avete potuto osservare chiamarlo stupendo e bellissimo questo orologio mi pare riduttivo ma come ho parlato di orologio vieni subito su è arrivato immediatamente pedrone che come sapete è un fan sfegatato di omega e figuriamoci dello snoopy dove abbiamo appunto un cagnolino nel quadrante a ore 9 quindi voglio dire quale occasione migliore detto questo io credo che sinceramente questo sia un gioiello che sia un qualcosa di fenomenale che mi è piaciuto immediatamente forse uno degli orologi ripeto più belli che io possa anche immaginarmi e ne sono veramente entusiasta oltretutto c'è tutta quella che la storia appunto dello spazio della luna del riconoscimento appunto che che nasa ha voluto conferire omega e del legame profondo che c'è tra questo orologio e quelle che sono state le missioni lunari rapporto che comunque continua anche nelle missioni odierne vi invito comunque per chi fosse interessato ad avere un po' di belle immagini a documentarsi meglio questo fantastico libro perché veramente vi permette di farvi una cultura sia per quello che riguarda le immagini sia anche per una serie di aneddoti riguardanti appunto la vita degli astronauti e anche con articoli e foto che vanno a ritrarre questi eroi in quello che era la loro vita quotidiana quindi non solo in quelle che erano le loro missioni per me è stato ed è un grandissimo piacere potervi raccontare queste poche cose riguardo a questo orologio seguiranno comunque altri video su altri speed master e ancora magari su questo snoopy perché secondo me c'è tanto da dire ed è un ambiente veramente meraviglioso detto questo io amici vi ringrazio per l'attenzione spero di avervi fatto vedere qualcosa che vi è piaciuto e vi ha emozionato come ha emozionato me io vi invito a seguirmi anche sulla pagina instagram lo zio poli noi ragazzi ci vediamo martedì per un altro video decisamente particolare dove vorrei andare a riprendere l'argomentazione trattata nella live di giovedì per esprimere meglio il mio punto di vista visto che l'argomento è caldo quindi parleremo sostanzialmente quando vale la pena acquistare un calibro di fornitura e quando invece vale la pena acquistare un calibro di manifattura come sempre è stato un piacere vi faccio salutare anche dalla vera star del canale che qua ha quattro di bastoni di fianco a me il super pedrone ciao carissimi come sempre è stato un piacere un caro saluto da me e dall'astronauta pedrone ciao grandissimi eccoci amici piccolo fuori onda so che tu non sei snoopy non ti ha disegnato schulz non fai parte di charlie brown ma chissà che un giorno non ci possa essere un fantastico omega pedrone award beh vieni qua tato un caro saluto da me e da questo bello sniffone ciao grandissimi brab 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 brab